Seba, neanche il tempo di festeggiare che domani già si torna in campo, anche se negli occhi hai ancora la bella serata, la bella vittoria di domenica con Modena, vittoria che ci ha detto che questa squadra ha carattere, questa squadra reagisce quando è in difficoltà. Sì, abbiamo vissuto penso una bella serata, un bel momento perché penso che è la prima partita dopo la Supercopa che abbiamo giocato qua a casa, insomma una partenza un po' persi, ma poi alla fine è venuto fuori secondo me quello che volevamo noi, entusiasmo, un buon livello di pallavolo e poi ovviamente qua a casa insomma volevamo dimostrare quello e penso che l'abbiamo fatto, quindi secondo me è stata una giornata grandiosa. Oggi partenza per Taranto che è la nostra prossima avversaria, Taranto che viene da una sconfitta, quella di Monza, ma è la stessa Taranto che ha rischiato di fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia, quindi massima attenzione. Sì, ovvio, ovvio, secondo me è un atteggiamento come sempre con tutte le squadre e poi alla fine noi vogliamo andare a caccia di punti perché servono, servono per la classifica, servono per accomodarci meglio e quindi andiamo là, fuori casa, forse un po' stanchi ma con buon ritmo penso perché al di là di queste partite una dietro l'altra magari siamo un po' stanchi ma ci dà il ritmo che vogliamo e secondo me sarà da lottare una partita difficile. Su quali aspetti secondo te è importante lavorare in questo pochissimo tempo che rimane non tanto da questa partita ma anche ai prossimi impegni a seguire? Su quali aspetti tecnici non solo secondo te? Sì, noi in campo alla fine stiamo lavorando un po' su di tutto, ovviamente che adesso ci serve anche il fisico perché con queste partite così uno dietro l'altro ovviamente qualcosina fisicamente ne abbiamo bisogno, poi tecnicamente quello ci pensa il coach, le fate le domande a loro che ci dicono un po' di tutto perché ovviamente il livello nostro ancora non è secondo me buono, non è per essere negativo ma perché insomma è alti basi che magari si vedono in partita, che partiamo benissimo dopo un po' male o viceversa, insomma sono cose che si posso non lavorare ancora. Grazie.